Vai, vai! Vai, vai! La chiesa di Via Croce San Sossio, che è un'ora, onorati a voi signori dell'Associazione Maria Santissimo dell'Arto, Via Croce San Sossio, effetto maggiore, eccoci qua, gli sbandieratori, bravissimo, un mini sbandieratore, bravo! Ecco il mini sbandieratore, signori un applauso, è piccolino, 70 centimetri piccoli, bravo! Bravissimo, bravo, un altro sbandieratore, solo con i denti, ci viene a onorare con la sua bandiera, bravo! Ecco il mini sbandieratore, forza con le vostre evoluzioni, bravo, grazie! E' un'arte, è passione, è demozione, ecco qua, bravissimo! Associazione Maria Santissimo dell'Arto, Via Croce San Sossio, fratto maggiore! Ecco le navi, un'arte, aspetto qua a te, sii bravo, sei bravissimo, vediamo, sei bravissimo, dai! Signori, amminate, bravissimo, vedo che il capoichetto gli ordini di sostenere, di tenere, bravo! Un'arte, 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 un un professionista delle evoluzioni della bambina si sta attaccinando a noi una persona che sicuramente lo fa con deluzione e amore grazie, siamo onorati, grazie allora, attenzione al vento, attenzione al vento, state vicino ai portabandiere per cortesia c'è il vento, bravi, sincronismo perfetto, bravissime e ragazzi è un ragazzo che con la sua forza, grazie, grazie mitica, bravissima, anche una signora che sicuramente ci onora è tutto, è qui per voi ve lo regalo all'associazione Maria Santissimo dell'Arco via a Cruce San Sossio una bambolina che si avvicina una bambina, signora, una bambina a palco prego alla bambina, bravissima bravi vai tu, vai, vai, vai bravi ancora, brava bravissima grazie sei unica bravissima, un applauso signori le portabandiere che sicuramente ci stanno facendo caprividire per queste evoluzioni grazie un applauso signori un applauso signori un applauso signori sei unico, meraviglioso e forte sei unico, meraviglioso e forte grazie signori, un applauso un applauso un applauso un applauso un applauso al papà che con tanta forza con tanto amore e demozione grazie bravissima 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 un applauso a portabandiere signore che con la sua evoluzione ci ha fatto veramente sognare signori vorremmo vedere la resurrezione dell'anima dell'artista Giuliana Morra che in questo momento si avvicina a noi col passo cadenzato noi attendiamo con onore di ammirare quest'opera ancora bravi bravi attenzione al vento alla vostra sinistra il vento grazie grazie signora grazie unica buona data attenzione ragazzi allargati bravissimi complimenti la resurrezione dell'anima dell'artista Giuliana Morra e ritmo e ritmo bravi bravi complimenti a Barretta Cino forza forza il ritmo bravi complimenti a Barretta Cino onorati a lei bravi ancora via Barretta Cino Complimenti, bravissimi, unici, cosa meravigliosa, bravi, complimenti signori, unica. Bravissimi signori, un applauso e un inchino, complimenti al signor Barretta Ciro.